Le lasagne nel nostro ristorante vengono riprodotte con della pasta verde, con un ragù di maiale ovviamente, coppa o salsiccia che sia, una besciamella molto morbida. La cosa importante è lo spessore della lasagna. Deve essere morbida ma allo stesso tempo riconoscibile sia la carne che la pasta che la besciamella.